Bella ragazzi bentornati sul mio canale e su Stellar Blade Allora abbiamo appena recuperato un nucleo Ah qua è... ok E questo parcheggio è importante O forse è un posto molto pericoloso Quali delle due? Allora credo che possa tornarci utile Ok I campi in base contene non sono più disfruttivi rispetto ai normali campamenti Qui puoi usare il console per potenziare le armi Montare quantità di potenziare le esplosine E migliorare la capacità di combattimento di Yves Io devo potenziare il tuo drone Creare nano tute E viaggiare velocemente verso altri campamenti Ah Ok Ah Ne ho due? Oh ne ho tre Questa No Eccola qua Voglio... Perché non posso prendere questa raga? No Ah ma perché devo prendere prima quella? Aspetta Tenendo a prendere flash Oh la madonna Ma non volevo questa Ok 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 Si illumina di blu e azzardo Un attacco mortale Usa flash per contrastarlo Se il nemico è dentro la redazione Dovettarlo Ok Ah ok Me lo attiva E poi io devo premere Ok 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 Ho capito Aspetta Ah ma Devo premerlo Quando viene fuori il coso Mamma mia È difficilissimo Raga Ok Va bene Va bene Va bene Termino l'allenamento Mamma mia It's complicated Però mi può aiutare Ok Ah uno costava Ah meno male Oh Semplificato Oh le Boh A posto E Qua cos'è? Niente Questo cos'è? Console di riparazione Viaggio veloce Nuclearmi 1 Potenza d'attacco aumentata Ah Ah Ci sono altri personaggi Quindi Ok Riposiamo Ok Sì? Riguardo a ieri Grazie Mi hai salvato Di nulla Figurati Però Esaurito Quasi tutti I materiali Per l'esospina Raccolti Negli anni Grazie Fammi sentire in colpa No 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 Non infiarire Cioè nel senso Infiarisci pure Ora almeno possiamo Aiutarci a vicenda Chi si? Insieme possiamo trovare Innaitiva alfa E Beh A dirla tutta Da solo non so Se ce l'avrei fatta Se riesci a trovare La sala archivio Avrai già fatto Più che abbastanza Ok Ti prometto Che ricambierò Il favore Ah Ok A posto Là c'è una cassa Ma non si può andare Di qua No Ok Ok Qua è Si è chiusa E vieni qua Stronzetto Oh Questo me lo ricordo Sarà dura Eccolo lì Non è un normale nemico E la madonna Ma è un robot Oh ma No bravo Altri Eh Cazzo Madonna Cacchio Saffa Lò Ai Ah Cacchio Cacchio Oi Oh Oh Hey Ai Via, 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 via Porca vacca Cacchio L'ho battuto? Ah Oh Maria San Crispino L'hai sconfitto, Eve Incredibile Non era un'itiva alfa No, è vero Ma era comunque forte Sarà tutto più difficile Forse Comunque Adesso dove andiamo Adam? Giusto Bene Guardiamo i dati cartografici Così lo Eh Lì c'è un dispositivo di trasporto utilizzabile Cosa? Credi davvero che quei dispositivi abbandonati funzionino ancora? Eh, perché no? Il campo era tutto intero Un po' di ottimismo, ok? Ah, ottimismo, certo Ma... Ah, ecco, mi dà la roba Altro? Qua c'è una roba Ehm... Come ci si potenzia la tuta? Abilità Borsa Ok, banca dati Manuale No, deve essere qua per forza Equipaggiamento Carica beta Ricarica di energia beta bonus 6% Riduce danni Riduce i danni subiti Ok Ok Visualize statistiche Rimuovi La non posso fare niente Perché è già Però non capisco quale sia Cioè nel senso Ah, ok Ora ho capito Ok, ok Qua ancora questo Non si può potenziare Ok Qua ho qualcosa No Ok, ok Sta calmo Dove si va? Di qua Ok Rattiva accampamento Ok Le abilità Vediamo Giustizia nemico alle spalle Utilizzabile solo su nemici Non in combattimento Sopravvivenza Questa cos'è? Incrementa Di danni agli scudi Lo scorcio Infrigio di danni aggiuntivi Agli scudi nemici E carica una parte di energia beta Quando colpisce Un nemico Con lo scorcio Incremento di danni Aumenta la potenza D'attacco Del triattacco Ah Spacca scudo Esegui un attacco improvviso Stordisci i nemici Colpiti Infrigio danni Questo lo voglio Ok E Contra attacco Utilizzabile Ok Respinta Utilizzabile Ah è su Il cerchio proprio Ok E Ricarica Energia Aumenta la quantità Ok Facciamo questa Ok Usiamo il negozio Oh Eeeh 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 Uno Beh va bene così Dai Salviamo Oh Travataggio Dobbiamo andare giù Ok Nemici Eeeh 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 Poi mi ha detto Abaddon Non è riuscito a farmi fuori Non c'è riuscito Ora devo solo riuscire a riuscire da questo edificio Ci vediamo il punto di incontro Eeeh Tutto mio Tutto mio Ok Qua ho visto un nemico Dov'è? Eccolo qua Eeeh Eeeh La madonna Questo è lo spacca scudo Ok Ok Qua adesso lo posso aprire da qua Ah ok Provo di uscire da qua Faccio un po' di punti esperienza Ok No L'avevo parata Ok Un altro nemico Oh mamma Ahia Cacchio Ok Ok Là c'era una cassa Non l'ho mica vista Piccolina come cassa Esospina Ah Esospina Aumenta del 27% la potenza dell'attacco degli attacchi combinanti livello 2 superiore Ah Ok Qua c'è la banca dati Che mi dice Ok Ok Qua ci sono tutti Ok Scusate ma mi danno fastidio ste robe Buon abilità In petto prendi abilità Tieni Ok Ok Allenamento Ok Atacchi combinati Inarrestabili dei nemici Ok 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 Dobbiamo andare Giù Ci saranno altri nemici qua probabilmente Eh sì Ok No No Oh yeah Oh yeah Ok Cacchio Porca vacca Ah Mio C'è la diffusione Scusa per attivare un dry diffusione Ok Che sarebbe questo Ma me ne servono due Porca vacca Forse da qua dentro Eh yes Era qua dentro Si Ok Che succede Ok un campo Base Un campetto Un basetto Mio mio Yes Olle Vediamo Prima volevo vedere una roba Qual era quella che ho sbloccato Squarcio Squagliano avanti Nella Mettri attacco Nell'arche di ripetizione Spagascudo Assalto Non ho neanche ancora niente Ma volevo vedere Se avevo Ah no Non l'ho messo Allora Ok Vabbè Riposiamo Ah non è vero Posso potenziare Aspetta Aspetta Scusate Scusate Ah no Non è qua Nei campi Quelli Overpower Ma quello Ah perché Ricompaiono È vero Che ricompaiono I nemici Ma hanno appena Abbattuto Uno Ma stiamo Scherziamo No 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 Ah non è un nemico Eh vallo a capire Quando attacca Cazzo Cacchio Quanti colpi Ah Ok 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 di là Però io vado di qua Nemico Nemico Ok Ok Easy Vediamo se c'è qualcosa Qua Nemico Nemico È qua Ah è qua Dentro Ok Mi hanno visto Yes Madonna Si è fatto Auto Explodere Scusa Ah eccolo qua Indaga Che i tuoi ricordi Vivano In eterno Ok Ah Due è un po' dura What the fuck Oh madonna Ah è vero Questo si apre Oh no Non ho il codice Inizia Riprova Eh come No non capisco No no fammi provare Forse sono i tasti Che devo premere Ah ok Bello Oh Tutto mio Fai scherzi Cos'è sta roba Boh Boh Ah Hai capito Ok Andare di là E di qua cosa c'è Ah ok Fammi salvare Però per sicurezza Prima però fammi vedere L'abilità Avrò raggiunto uno Esatto Ok Ok Compriamo un paio di Vai un altro Ok Noi prendiamo E salviamo Ah Ok Easy Il problema è che ci sono Sono ritornati i nemici Spero non questo Verò Ok Ok Oi Quale è quello là Questo Sì Alla madonna Ah Mi ha preso lo stesso Lo stronzetto Devi passare di qui Per raggiungere il dispositivo Ok Però non ho Ok Sarà là dentro Oh no Oh no Oh no Eh la madonna Tutto a posto? Ok Ok Alla, preso Qua sa che è Ah, da Ok Eh, indaga Sfera madre, nostra professa C'è abbandonati, ti prego salvaci da Naitiba Dai Naitiba, fallo prima che la maledetta fede finisca Indizio Ottieni una cella di fusione per attivare Ah, ma sì, lo so, lo so Ok, questo lo so I know, I know Stavo esplorando La strada è sommersa Lo so Ma è l'unica opzione Aria fiora Ah, da qua Oh no Ah, qua, qua Aspetta Ah, ok Ok Il protocollo Eve ha inizio Ho appena ricevuto un segnale di comunicazione della nuova unità Il protocollo Eve ha inizio Gli angeli della morte scenderanno dalla colonia Libereranno la terra da Naitiba e ci salveranno La salvezza della sfera madre vicina Sono grato di aver vissuto questo inferno per decenni Ah Ma vero, ma quanto posso stare sotto l'acqua, scusate? Eh, emergiti No Bendizio Eh, di nuovo questo e la B Ok Dove devo andare? Su? Ah Devo immergermi, no? Devo prendere la corda, forse Ah, ok Ah Ok Attiviamo l'accampamento Wow Console di riparazione E di potenziamento Non sono unità sbloccate Eve Aumento potenza d'attacco Ah Quattro su tre Mi ne rimane uno comunque Ok Esospina Aumenta Deve prendere i danni critici Ah, ok Manca oro Perfetto E Qua Qua In verità Non penso di averle preso Forse sì Una Carica con Un tac Un tac Adesso dopo aver sconfitto Un nemico Un nemico con un guato Un assalto Parte dalla carica contro Un nemico nelle vicinanze E lo manda a terra Va benissimo Va benissimo Ok E salviamo Adam Ero molto sorpresa Quando ti ho incontrato Perché? Alla colonia Ci insegnano che la terra è completamente disabitata Sicuramente sarà sembrato così Ma Non si può pretendere che la sfera madre sappia tutto Quindi Ci sono altri sopravvissuti Come te Sì Ma è raro Vederne in giro La terra è ancora in ospitale Per gli umani Mmm Me puzza Me puzza Vabbè raga Io vi salustro E ci becchiamo A un prossimo episodio Bella